Ero a scuola ed era l'ultima ora, quando tutti erano usciti dalla classe a me venne la brillante idea di buttare la bottiglietta di igienizzante che si trovava sulla cattedra dalla finestra ma non mi ha visto nessuno. Alcuni giorni dopo trovai in un tavolino vicino all'entrata una bottiglietta di igienizzante un po' sporca di terra. Ho capito subito che era quella che avevo buttato io perché mi ero ricordata che quella bottiglietta era caduta proprio nel giardino del prete della scuola.